Io non credo che la soluzione sia quella di una riduzione di orario perché rischiamo di comprimere le persone in poco tempo e quindi creando ancora più sembramenti. Non voglio penalizzare i locali perché hanno appena riaperto e quindi non voglio creare penalizzazioni dei locali, però dobbiamo intervenire. Quindi proporrò domani che nelle aree della Movida la mascherina diventi obbligatoria, ovviamente salvo nei momenti in cui uno beve o in cui uno mangia, è normale. Però vorrei creare delle zone come abbiamo fatto al mercato dove è obbligatoria la mascherina in modo tale da responsabilizzare maggiormente i ragazzi e in modo tale da aiutare le forze dell'ordine e la Polizia Municipale nel fare i controlli. Perché è molto difficile controllare se stai a distanza di sicurezza e è un po' più facile controllare se hai la mascherina o non hai la mascherina. Quindi speriamo che queste proposte domani vengano accolte e che possano dare una mano a gestire meglio il prossimo weekend. E' giusto e legittimo che i ragazzi escano e che vadano a bere insieme agli amici, ma non è questo il momento di farlo tutti insieme. Via stare in pochi, distanziati, lo si può fare tranquillamente senza stare tutti accalcati davanti ad un locale creando assembramenti pericolosi.